Che strada pesca, non si può capire, c'ha una muta completa, un bastone, c'ha un dietro una fada di plastica bianco che se lo porta dietro, molto probabilmente va a polpi, presumo, il polpo lo infilza, perché c'ha anche davanti la possibilità di vedere l'acqua, una specie di proiezione come vedete. Stop!